dottore non so perché ma oggi c'è qualcosa che mi dice che oggi non trovo un chat mi scusi a mente quando se la sente proprio no no signori bentornati sul canale siamo qui a seguire un nuovo video di mia madre ma prima di cominciare il vostro supporto è fondamentale per trovare nuovi brawler quindi mi raccomando un pollicione in su soprattutto perché mi mancano i leggendari quindi un pollicione in su potrebbe farmi trovare un leggendario in più e magari commentateci sotto con scritto la valigia perché il nostro pinguino c'è in mano una valigia quindi perché non commentare sotto con scritto la valigia la valigia allora io dottore direi di non perdere troppo tempo non guardo neanche la mia percentuale di trovare le leggendari perché dopo che ho trovato jackie si è abbassata ulteriormente quindi sarebbe se ti fa scoppiare il fegato non vuoi darsi un'ulteriore mazzata va bene signori avremo pochissime sarà la solita cosa jackie maxine e il pinguino perché alla fine sono gli unici che mi mancano da portare il livello 10 dai resta devi trovare solo leggendari non hai nient'altro leggendari gadget e star power che sono anche i gadget stavo dimenticando e vi ricordo che io dall'età del mesozoico con le star power da trovare e se sempre con la storia non escono c'è anche l'altra volta mi hanno trovato niente non so perché io a livello 10 i brunner non li devo fare devono essere tutti quanti a livello 9 belli beati e basta eh sì infatti quest'oggi è una bella star power tipo di pocio o leggendari di pocio no mi manca no la di pocio non mi serva niente ma non mi trovi quella che cavolo dei soldi scegli un doppio un super ambrogio se lei mi maxa quest'oggi ambrogio mi trova la prima e la seconda lei c'ha una sfiga che le tirerà dietro fino alla fine dei tempi sai che mentre apro mi sto accorgendo del fatto che le ho detto una s*****a che io oggi proprio non troverò niente ma gliel'ho detto cioè parti carico perché quando cominci ad aprire una decina vedi che non trovo assolutamente niente no ma quelle che possono trovare qualcosa sono quelle grosse lì io tra l'altro c'ho anche la megacassa stavate non lo so clicca a caso la megacassa è oggi buon modo ma lei non le servirebbe per lei tutte le casse comuni per lei sono delle megacasse si ma è così è così ah tra l'altro io vorrei vedere ma oggi maxa qualcuno ah probabilmente maxa qualcuno tutte le volte cioè quest'oggi chi farà no secondo me c'era troppo indietro ancora no forse non faccio niente è più probabile il pinguino però è ancora troppo indietro è ancora troppo indietro quindi oggi raga non si maxa nessuno però potremo trovare qualcosa di buono è tutti al 10 ma no al 9 al 9 perché al 10 non li fai perché non escono le star power come fai a fare dicendo non esce niente è un po' sfigata madonna devo dire la verità le ripeto io sono il gatto che attraversa la strada e viene schiacciato dal furgone che le piacciono sono così lo so perché ma tutte le volte io mi carico io direi di insomma per chi non può essere con iscritto iscrivetevi perché insomma per portare un po' di fortuna a questo nome perché è sfigato come un ceppo di legno beh io non la vedo c'è insomma cosa fa perché mi clicca le cose dottore mi viene l'ostia perché lei ha un clic un po' tardo oddio mia dottore guarda che c'è ancora un sacco di casca dai abbiamo soldi pinguino e e maxin ma 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 chi l'avrebbe mai detto monotonia portami via dai pinguino e trovai ma ancora ma lo zucchino non può tirarlo fuori ma lo dico anch'io ma che è sta roba oh raga ma cioè andate a recedere un cero in chiesa ha fatto un rito satanico tirate giù non lo so al buddha chiedetegli qualcosa a lui perché non può esistere il genere dottore ma ma i gadget ha anche una percentuale assurda ma appunto ma porco giuda no ma nella cassa cicciona lì lo trovi per forza mamma mia e hai 8 dio santo se non trovi un gadget qua dentro sei sfigato madonna cioè non è bastato vedere 26 casse da terramine 8 casse ciccione fatto che per una un coso è un po' sfigato è un po' sfigato quindi sfiga nella sfiga non so a me è il trigger a vedere il 9 su 10 comunque possiamo trovare delle scelte che non le troveremo perché alla fine i nostri bruno le da trovare sono unicamente 3 quindi sarà molto per far vedere 2 e io spero in gas e sarà 2 ecco giustamente 2 ma potremmo trovare qualcosa anche con 2 forse si forse no forse boh può essere chi lo sa può essere pochi che no va bene è il pinguino va bene no lo maxo attenzione easy comincerà l'eterna saga ole 2 e 3 no un gadget qua c'è una star power attenzione questo vuol dire solo una cosa no non è vero perché questo serviva solamente per maxare il pinguino poi gli altri mi trovano gli altri 2 è ovvio sicuro al 100% è così dottore è un'infamata perché è un'infamata ma non è contento ma che è contento adesso troverai solo due scelte quindi ah per favore sono due se due li devo trovare però se hai due scelte puoi trovare qualcosa non diamo nulla per scontato dai 2 2 quindi è già qua dai dai ne hai ancora davanti abbiamo jacky abbiamo chi avremmo abbiamo maxine 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 ma dai attenzione maxine la prossima volta li maxiamo a randello vabbè c'è solo quelli dio santo ne trovi due per ogni cassa quindi saranno tutti per loro cassa numero non l'ho guardato dottore due scelte dai però mi viene male perché ogni volta che ho due scelte non trovo niente quindi anche se ma non lo so è un'illusione io non sarei sicuro perché secondo me se ne trovi tanti di uno non puoi trovare anche con due secondo me finisce male vai 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 io ci credo un gadget me lo trovo dai la star power la tira fuori per forza ma non trovo niente dottore lei deve stare calmo lei l'immagina di barabba niente deve stare calmo ma che sto calmo dottore deve crederci cioè lei respiri faccia un bel respiro un bel respiro lei deve trovare anche il bene e anche del male scusi vada dottore lei non calci una gamba che bene ci vede il fatto di poter ricevere due calci entrambe le gambe ecco vede ok vada vada no va bene va bene ok manca un'altra cassa le mie parole inizio dito oggi sbotto ma lei non deve dire così che si porta sfiga dai che palle madonna bonus bonus cioè oggi non ho trovato neanche una gemma esatto ragazzo 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 ho dato un colpo oggi mi son dato un guffone cioè fate conto in tutti i bauli una volta le gemme niente erano dopo i gettoni niente ma una porcheria dottore no no infatti solo dalla sua per questo è incredibile ne ho ancora due però si però mi sta venendo averne due come averne otto è sempre quella che apre quindi vada mi passa la voglia dai dai tre scelte dai dai mamma mia oh una por- niente niente ma non brilla niente qui sotto però le gemme tutta la fine dottore io direi un f per questo uomo che è stato sfigato come un caprone proprio non dite mai oggi faccio il botto perché trovate cioè raga veramente io non lo so se finivo sotto un cingolo che erava soffrivo meno va bene all'ultima ultima raga un like almeno uno c'è un like server perché veramente non è incredibile se fate vedere questa cosa uno scienziato non ci credisce no le statistiche le probabilità non può essere così dai tre scelte no c'è la mamma che è una zampogna secondo me però provo a indovinare il bruner che mi uscirà vai secondo me lo trovi adesso Jackie e Maxine no impossibile Jackie anche l'ordine hai beccato raga beh che dire Leon è uscito no sì cominciamo partiamo con questa qua devo continuare con il volume come ho messo ok free box partiamo con la prima e speriamo qualcosa di bello anche se sicuramente avrò una matata sui denti assolutamente sì il contadino con il suo barile ci mancherebbe altro ambrogio secondo con la casa ambrogio dottore un attimo va bene dottore un attimo da notare lei trova ambrogio e si blocca la webcam abbiamo sette ambrogi e sette stecca sette ambrogi hai capito sette ambrogi secondo bauli il dottore trova un bonus è vero non ci ho fatto caso era doppia abbiamo tic abbiamo bibi ok un altro ambrogi oh due ambrogi occhio raga oggi si fa i sette speriamo di no un altro doppia ci sta ci sta ci sta non è affascinato il doc ma va non è colpa mia la papera la bendata è tipo la papera il cartoccio che poi la mette nel forno è buona le rose della mucca famosissime rose della mucca vabbè mi scusi abbiamo anche tutto l'ho fatta vedere la mega casa vabbè lì in cima quindi si vede abbiamo ancora le rose della mucca le rose sono mucche le mucche sono rose ok ambrogio attenzione siamo a tre signori tripletta di ambrogi cioè va bene tutto però questo attenzione raga ma vada che cosa mi dice attenzione una testata io lei è l'hype quanti ambrogi oh 12 raga quali fa quali fa 7 raga 7 una lavatrice e un barile io lavo i panni nel barile stai zitto che dio santi io una testata franco e la mummia abbiamo poi dai ma qualcosa di buono vabbè tanto va bene trovo un po' tutti anche così li tiro su però se è uscito con un gadget credito devi ancora trovare il suo primo gadget esatto faremo quello di penne che fighissima appunto avanti dottore avanti mi trovi questo robot pensavo a un brogio ma vai dottore ma perché non sperare la papera franco io non vorrei una papera di nome franco io stesso sarei proprio andrei giù di testa attenzione pomo il mulo star power del mulo ok ok e tocca a punta abbiamo il mulo devo trovare solo quello solo il mulo direi sì dottore la star power l'ha trovata eh allora abbiamo ok niente di particolare però volevo gli ambrogi cioè una ha trovato una star power se mi fa sette ambrogi sono contento così è contento ma ma no è contento lei per la star power io sono contento per gli ambrogi capito le dico una cosa molto così vada c***o per favore grazie mille passiamo con le sette c***o speriamo qualcosa di buono Leon portami fortuna boom olè ma raga va bene ehi non ci ho fatto neanche caso l'ho visto smerrucicare il gadget dello zucchino raga lui bauli due bonus sta a favore del muro apre una cassa boom gadget di spite io che c'ho il triplo di cose a trovare ma ne uscissi no dottor allora non lo dica anche lei ma non è colpa mia lei c'ha un c***o che è fuori di testa però è uno zucchino vede sì ma lei è devastante però è fortissima non lo dica pure e anche 5 gemme anche 5 gemme non è che pollicione su per lo zucchino mi raccomando emoji di cactus con saluto nei commenti andiamo avanti con la cosa ma penny 5 gemme ancora per il dottore il genio delle mucche io non dimentico allora abbiamo jacky e abbiamo infine bea ok e 3 gemme allora andare contro il dottore nelle sfide dei bauli è tipo fare barcellona contro la provinciale della langa d'undia no cosa fanno ambrogio il quarto ambrogio almeno quello siamo ancora in garra per i 7 ah sì siamo a 4 e 2 ha trovato 3 raddoppi aggettoni già 10 gemme una star power ha trovato un gadget mi fa 4 ambrogi ma porco giuda 4 ambrogi non sono fortuna per me è tipo è il conto vedi vedi questo spiga anch'io ambrogio vedi che spiga vabbè per 62 franco ci sta dai ultime toccasse enormi poi abbiamo la cosa lei ha una fortuna che è fuori cioè invomitevole ma non è colpa mia è vomitevole abbiamo stenzione abbiamo piper e terminiamo con rosa ok e abbiamo 3 gemme e tra l'altro per dire diamogli qualcosa va bene io però volevo la cosa di penny se me la possono dare ma va bene anche il pinguino che non ce l'ho ancora la mega cassa porco di quel giuda io non sono fortunato nelle mega cassa ma lei è fortunato in generale lo vedo lavatrice max maxi piper e 3 gemme mi sembra averlo già visto sto paura va bene ok allora non so quanto ci abbiamo trovato quest'oggi non ho idea abbiamo la mega cassa però ho intanto il gadget dello zucchino che ci sta ah si si per forza ok tra l'altro ho anche fatto un mulo a 10 cosa mi piace non so neanche se sono la star power che insomma quella di brutta non c'è fatto caso io ho il mulo al 9 da prima del dottore però abbiamo la mega cassa adesso è vero signore cassa che può riservarci nessuna ambroge perché tra l'altro ho già trovato tutti è vero non può trovare non fa neanche 7 ambroge meno male se mi trova il pinguino qua dentro mi fa star power il gadget del nuovo brawler io me ne vado speriamo io me ne vado va bene anche sandy non l'ho ancora trovato andiamo va davanti mi trova niente grazie al cielo allora abbiamo jacky abbiamo ambroge 5 solamente 5 raga 5 ambrogi solamente cose che sono tantissimi se faceva 20 ambrogi era tipo il super ambrogio era bello vabbè vada avanti vada avanti terminiamo con il barile il barile signori l'ho maxato il barile è maxato oh questo è il top raga ho letteralmente ma che figata ma cosa fa non ho capito fa tipo una roba una petalata di aghi fa tipo una spinata se ci sono sotto lo fa uguale signori ditemi se ci sei sopra fa un danno unico tipo così comunque signori mi raccomando se ci sono un pollicione se si va iscriviti al canale attivate la campanellotta per restare la giornata dei prossimi video congiorno ci possiamo beccare in un prossimo ti ripeto quelle ampere ti ripeto veramente le mani addosso vada 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 f***a e congiorno ci possiamo beccare in un prossimo video poi lei mi spiega cosa ha scritto super super falsico perché lei lei si è messo d'accordo per forza no no per forza cioè non ha senso sta cosa adesso è messo d'accordo ciao ciao